Posso raccontare un brevissimo aneddoto, una volta andai a Mazzara del Vallo moltissimi anni fa quando già c'erano i primi insediamenti di emigranti tunisini, magrebini e via di seguito e mi dissero che in una scuola elementare il direttore di questa scuola aveva concesso due aule ai bambini magrebini tunisini, allora gli andai col mio operatore per documentare questa operazione arrivo di corsa e il direttore mi disse per carità non lo faccia perché non ho nessuna autorizzazione per fare questa cosa li riprenda piuttosto all'uscita quando fraternizzano i bambini e disse all'operatore riprendere all'uscita, quando poi tornai a Roma col materiale la montatrice mi disse scusa perché vuoi montare questa scena dei bambini disse ma perché fraternizzano, sono bambini siciliani, bambini magrebini e la montatrice mi disse ma come si fa a distinguerli? Ecco mi sembra esemplare grazie a tutti